buongiorno a tutti sono filippo peveri titolare dell'azienda agricola biologica ciao latte e sono qui per parlarvi del mio rapporto con genesi project il nostro rapporto iniziato 9 anni fa quando per la prima volta sono entrato in contatto con questa realtà in particolare con claudio mariani che appunto ha accolto e la mia richiesta ed è stato subito pronto a appunto proporre una soluzione perché la mia esigenza era quella di allevare animali da latte che mi riuscissero a fare un po di latte anche con 3 kg di mancime di media quindi cosa è successo dalla popolazione della famiglia originale delle mia frisone ho iniziato a meticciare utilizzando utilizzando appunto questo sistema di incrocio a tre vie provato scientificamente appunto ho avuto modo di documentarmi al meglio per quanto riguarda la caseificazione del latte prodotto da questi animali e da 9 anni appunto continuiamo a collaborare alla grande la cosa che mi piace molto di questa azienda è sicuramente l'approccio al problema l'apertura che hanno sicuramente i soci ma anche i venditori perché nel momento in cui entra a far parte della famiglia genesi project penso che devi sposare una si sposa una filosofia e questa filosofia poi una volta sposata viene anche condivisa altra altro punto favorevole dei ragazzi di genesi è che non vengono in azienda continuamente a romperci i maroni ma appunto solitamente quando ho bisogno sono io che alzo la cornetta e li chiamo ecco ciao a tutti ciao